A Cesena il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri con delega agli affari europei Sandro Gozzi ha voluto incontrare i giovani ragazzi maltesi che in questi giorni parteciperanno allo scambio Erasmus Plus. Un momento per parlare di Europa tra prospettive future e storia. L'Europa è un moltiplicatore di opportunità e lo è soprattutto per i giovani. Per questo bisogna assolutamente approfittare innanzitutto dell'Europa che c'è. L'Europa dell'Erasmus, l'Europa della mobilità è un'Europa che è fatta su misura per i giovani e bisogna assolutamente approfittarne e rafforzarla. E l'iniziativa che ho voluto portare a Cesena, d'intesa con il governo maltese, di giovani di Malta che vengono a Cesena e di giovani cesenati che vanno a Malta, mi è sembrato un segno molto concreto dell'Europa che esiste da portare nella nostra città. Perché la scelta di effettuare uno scambio culturale tra giovani è ricaduta su Malta? Malta è nata perché Malta ha avuto la presidenza dell'Unione Europea nel primo semestre di quest'anno, da gennaio a giugno e comunque con Malta in questi anni, con Italia, abbiamo stato dei rapporti molto forti perché abbiamo tanti interessi comuni e quindi abbiamo pensato, quando il governo maltese ci ha proposto questo scambio, abbiamo pensato di accettare subito e io, essendone il responsabile, ho detto che c'è una bellissima città nel centro nord dell'Italia che si chiama Cesena, la facciamo lì.